Ognuno ha il diritto di vivere come può La verità mi fa male, lo so Per questo una cosa mi piace e quell'altra no La verità mi fa male, lo so Se sono tornata a te Ti basta sapere che Ho visto la differenza fra lui e te Ego scioglotte Ognuno ha il diritto di vivere come può La verità mi fa male, lo so Per questo una cosa mi piace e quell'altra no La verità mi fa male, lo so Se sono tornata a te Ti basta sapere che Ho visto la differenza fra lui e te Ego scioglotte Benvenuti alla settima giornata del Magna Grecia Film Festival Il programma di oggi prevede il film La casa sulle nuvole di Claudio Giovannesi E per gli eventi Schizofrenica Doc di Silvia Scola Io mi sono rotto i coglioni di vita Ma se è mezz'ora che guidi? E mezz'ora, saranno tre ore Mi lascia dormite, mi lasciate solo Non so neanche dove cazzo andare io Ma non so tre ore che guidi Che stai a dire? Dove va? Il mio film La casa sulle nuvole racconta il viaggio di due fratelli E sono costretti a partire Perché la casa dove vivono è stata venduta È stata venduta e è stata acquistata da una persona Uno sconosciuto che vive in Marocco E sono costretti a partire perché dietro questa vendita della casa Si nasconde in qualche modo la rivelazione di un padre scomparso Da 15 anni che evidentemente vive in Marocco E quindi si parte insieme, i due fratelli Alla ricerca di questo padre Con motivazioni e conflitti differenti Scusi ma chi l'ha venduta la casa? Il legittimo proprietario, no? Il signor Dario Raggi Il signor Dario Raggi non è più il proprietario di questa casa Grazie Senta guardi, siccome la vendita già è stata fatta Se lei mi fa controllare quello che devo controllare Io finisco il mio lavoro e me la vado a casa Siamo tutti contenti Ecco senta, possiamo parlare con questa persona per favore? No, non potete parlare perché il signor Vitale abita a Marrakesh In Marocco Perfetto, questa è proprietà privata Adesso uscito da qui, grazie Lei mi vuole costringere a tornare con l'ufficiale giudiziale? Faccia cosa vuole Va bene Da questo momento comunque mi fate la cortesia Vi ritenete abusivi Tutti e due Abusivi, grazie Eppure lei La strada è quella Eppure il cane Arrivederci Ho scelto il cast con un desiderio I protagonisti del mio film sono due fratelli Sono due fratelli che hanno un carattere molto diverso La ricerca del cast è stata fatta in qualche modo come coppia Non è stata una scelta singola Quindi quando ho scelto Adriano Giannini Per il ruolo del fratello maggiore Anche per un amore verso quest'attore Però anche per delle somiglianze con il personale Automaticamente c'era una coppia di fratello minore C'era un'idea di fratello minore che era abbinata a lui Che è Emanuele Bosi Che è un attore altrettanto generoso Com'è? Eh? Vi faccia questo bottone E poi tira fuori la camicia Fatti vedere? Ok, perfetto Il viaggio che loro fanno è sì Un viaggio geografico Ma un viaggio che li porta in qualche modo Alla definizione della propria identità È un viaggio che almeno spero dovrebbe essere Alla riscoperta dei propri legami di sangue In cui all'interno del viaggio cambiano i rapporti interpersonali Al di là della meta del viaggio Il cambiamento avviene durante il percorso Forse è pure meglio soppervire Così siamo tutti Io volevo raccontare un'emigrazione al contrario Cioè di qualcuno che lentamente Si allontanava dall'occidente Verso il sud E il sud più vicino Ma più distante Da un punto di vista antropologico e sociale È il Maghreb in Nord Africa Che dista solo tre ore di aereo dall'Italia E quindi per raccontare questa emigrazione al contrario Siamo andati io e gli altri sceneggiatori A fare una bellissima documentazione Perché è stata un'esperienza di vita fortissima Sugli italiani che vivono a Marrakesh E gli italiani che vivono a Marrakesh sono 22 Quindi è stata relativamente semplice Insomma abbiamo incontrato queste 22 persone Le abbiamo conosciute Le abbiamo intervistate Abbiamo passato del tutto con loro Abbiamo conosciuto le loro storie Girare nel deserto era il premio finale Perché il film si allontana sempre di più dalla città Arriva fino al confine con l'Algeria Quindi quando si gira nel deserto Si ha a disposizione uno spazio estremamente vuoto E in questo deserto Tutto quello che viene rappresentato Ha in qualche modo un risalto ulteriore Rispetto a un'altra location Perché gli esseri umani in un deserto Hanno una rilevanza enorme Rispetto a degli esseri umani inquadrati in un altro luogo Quindi assume, spero, credo Una valenza anche metaforica Poi nel percorso dei personaggi E nello sviluppo della storia Stai tranquillo La strada è quella giusta Sì, spero, credo Sì, spero Oh, that's lovely Oh, that's lovely questo spettacolo schizofrenica doc è stato messo in scena a roma al teatro il museo con grande successo di pubblico durava un'ora e venti ed è stata fatta una ripresa video da questa ripresa video in realtà abbiamo fatto questo estratto che sono quindi dei momenti c'è questa giovane donna schizofrenica in cui le sue due parti, quella più accomodante e quella più arrabbiata nei confronti della società litigano tra loro il senso di questa pièce è questo, è un disagio profondo della condizione femminile oggi però tutto comico Ma perché adesso è colpa mia? Adesso è colpa mia? Ma se sei tu che ti sei messo a ridere proprio sul più bello? No ragazzi no calma eh, calma non perdiamo la calma va bene? Ricordatevi che divise non andiamo da nessuna parte eh? Quante siamo qua? Quante siamo eh? Gianvito Casadonte direttore del Magna Grecia Film Festival lo ha visto a Roma, si è innamorato di questo spettacolo e l'abbiamo portato qui a Soverato l'anno scorso e quindi quest'anno che sono in giuria al Magna Grecia Film Festival Gianvito mi ha detto ma perché non porti quell'estratto così lo presentiamo Sono molto contenta di essere in giuria in questo festival di opere prime perché l'opera prima è proprio l'inizio, la nascita di un nuovo autore e dare la possibilità a dei giovani che hanno qualcosa da raccontare, di poter essere visti, apprezzati e conosciuti è una cosa importantissima Arrivederci a domani con il Magna Grecia Film Festival Vi parleremo del film Aspettando il sole di Agopanini Aspettando il Magna Grecia Film Festival